Eccoci ritrovati in un altro video dedicato al social media marketing. Oggi parliamo di come selezionare gli hashtag per il tuo profilo Instagram. Cominciamo con il dire che l'hashtag è una parolina preceduta da un cancelletto e sostanzialmente non è altro che un aggregatore di contenuti perché nel momento in cui io clicco sopra questo hashtag mi verranno riproposti tutti i contenuti che sono stati taggati con quell'hashtag. Questo ci fa capire l'enorme potenzialità che hanno queste piccole paroline che ci permettono di raggiungere anche persone che non ci conoscono solo tramite la scrittura di determinati hashtag che sono conosciuti da una community molto ampia. Ci sono due tipi di hashtag principalmente, il brand hashtag e il community hashtag. Il brand hashtag è sostanzialmente un hashtag che viene creato da una compagnia, da un'azienda per un obiettivo. Per farti un esempio pratico probabilmente avrei visto la pubblicità di Lufthansa per tv che ha lanciato il suo hashtag di Say Yes to the World. I community hashtag invece sono tutti gli altri hashtag, cioè sono quegli hashtag che sono creati direttamente dalla community, cioè dalle persone come noi. Ognuno di noi infatti può creare un hashtag personalizzato. Il mio per esempio è Venice with Leeds, perché sul mio feed di Instagram parlo principalmente della mia città. Detto questo, come piccola introduzione, passiamo al fulcro del discorso e quindi a come si selezionano e come si fa lo studio di hashtag. Cominciamo! Questo è il foglio di Google che io utilizzo per fare la ricerca degli hashtag per i miei clienti. Come vedi è suddiviso in colonne, è molto semplice. Nella prima colonna inserisco l'hashtag di mio interesse. La seconda colonna si riferisce alla categoria di questo post, perché è facile che nella mia strategia social per Instagram siano previste diverse tipologie di post e non solamente una. Nella terza colonnina invece mi vado a segnare di post che esistono già sotto questo hashtag. Questo perché? Perché mi fa capire l'ampiezza e la competitività che ha questo tipo di hashtag. Per farti un esempio pratico, io che posto nel mio feed principalmente foto di Venezia, un primo hashtag sarà sicuramente il generico Venice, ma da lì in poi dovrò fare affidamento un po' alla mia fantasia, un po' ai suggerimenti di Instagram. Perché eccoci che ci attacchiamo al secondo strumento che andiamo a utilizzare oltre a questa Google Sheep, che non significa cacca ma significa foglio. Comunque, una volta che ho identificato più o meno gli hashtag generici che secondo me sono inerenti con il prodotto di cui sto parlando o il servizio di cui sto parlando, mi trasferisco su Instagram e tramite la sua barra di ricerca mi suggerisce degli hashtag correlati. Anche qui me li devo tutti copiare, me li devo inserire in questo file e poi mi andrò a registrare tutti i dati che mi servono. Una volta raccolti, vado poi a fare un'ulteriore selezione. Oltre a fare affidamento sulla barra di ricerca di Instagram, che è sicuramente fondamentale, un altro metodo per ricercare hashtag relativi al tuo brand è vedere e spiare che cosa fanno i tuoi competitor. Puoi anche guardare gli influencer del settore e vedere se qualcuno degli hashtag che utilizza questo influencer magari fanno al caso tuo. Una volta collezionati circa 150 hashtag, suddividili in gruppi da 30, dal momento che appunto al massimo di hashtag utilizzabili nella caption di Instagram sono 30, fai gruppetti da 30. Come fai a creare questi gruppetti? Cerca di bilanciarti. Cosa significa? Che all'interno di questo gruppo di 30 hashtag io avrò una percentuale di hashtag popolari, quindi di hashtag che hanno un enorme volume di contenuti già presenti. Un altro 30-40% di hashtag un po' più di nicchia, che non hanno tanti contenuti ancora online, ma sono hashtag veramente utilizzati dalla community che ci interessa. L'ultima percentuale che ci rimane è una via di mezzo tra i due. Una volta che io ho individuato qua tutti questi, che mi sono divisa i gruppi 1, 2, 3 gruppi, 4 gruppi, 5 gruppi, perché sappiamo benissimo che Instagram penalizza l'utilizzo sistematico dello stesso gruppo di hashtag. Perché so anch'io che è comodissimo, copy and call del gruppo di hashtag. Adios! Ma in realtà non è così. Per concludere voglio suggerirti un tool che io ho scoperto qualche mese fa e che da allora non ho veramente più lasciato, che si chiama Plan That. Plan That sfortunatamente è solo una app per mobile, quindi non c'è la versione desktop, almeno al momento, e ti permette di fare una ricerca hashtag davvero molto interessante. Ovviamente ci sono altri tool che puoi utilizzare per la ricerca degli hashtag. Se fossi interessato a scoprire altri strumenti, lasciami un commento che magari il prossimo video lo facciamo proprio su questo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!